Ovidio ci presenta personaggi che vivono nel mondo della letteratura come se si trattasse di un mondo reale e il cui passato è costituito dalle storie che si sono narrate su di loro. Ma di fatto è sbagliato dire come se fosse un mondo reale, perché il mondo della letteratura è un mondo reale. Anzi, se tutto si trasforma e nulla resta immutato, le uniche certezze sono quelle che ci vengono dai testi, dai testi dei grandi autori. Il mondo della creazione letteraria per Ovidio ha le sue leggi impegnative ed è quello su cui si fondano i valori. Nelle Metamorfosi Ulisse è il grande oratore, l'eroe che domina, più che con le armi, con le arti della parola e che quindi è in grado di offrirci un discorso di qualità eccellente e che riesce a convincere chi lo ascolta. Però è anche altro, è un personaggio che è vissuto in altri testi di cui serva memoria, perché costituiscono il suo autentico passato. Ulisse ha un passato illustre, il più illustre che si possa immaginare, quello che ci è stato trasmesso dai poemi omerici, che come gli eventi che noi presentiamo ai nostri ascoltatori può essere manipolato, ma che mantiene la sua concretezza, in modo tale che si possa cogliere e apprezzare la riuscita operazione di Ulisse. La storia di Europa, alla fine del secondo libro delle Metamorfosi, mette in scena Giove che sacrifica la sua maiestas di re degli dèi all'amore e assume le forme di un toro. Si tratta di una vicenda speculare a quella del primo libro, in cui era io, la ragazza che Giove aveva violato, ad essere trasformata in una mucca, una metamorfosi che aveva comportato per la giovane un grande tormento, perché si sa, nel corpo nuovo rimane la mente antica, mensa antiqua manet. Per Giove naturalmente la metamorfosi è solo un gioco sensuale, così, infatti, può realizzare quella che è una vera e propria scena di seduzione rivolta alla semplice Europa che si lascia conquistare dalla bellezza di questo toro. È una bellezza che viene descritta nei dettagli e uno di questi è costituito dalle corna, piccole, ma che si potrebbero dire frutto di un lavoro d'artista, dice Ovidio, più diafane di una limpida gemma. Ecco uno dei principi forti dell'estetica ovidiana, espressione di un mondo sofisticato. La natura raggiunge l'apice quando si può paragonare ad un'opera d'arte e viceversa l'opera d'arte è veramente riuscita quando è indistinguibile dalla natura. Si tratta ovviamente di principi diffusi nell'estetica del tempo, ma che esprimono perfettamente questo mondo dagli indistinti confini che è quello delle metamorfose. Un mondo nel quale ha importanza decisiva e non importa che si tratti di arte o natura, noi dobbiamo essere in grado di vedere, di constatare, di toccare con mano che si può verificare anche l'incredibile, la trasformazione di un corpo in un altro. E l'obiettivo del poeta è rendere questo reale e realistico. Oggi le metamorfosi godono di grande fortuna, proprio perché ci presentano, come abbiamo detto, una realtà dagli indistinti confini in cui tutto cambia, un mondo dunque del tutto simile al nostro. E questa realtà ci è posta sotto gli occhi, con concretezza. Ma c'è qualcosa d'altro. Le metamorfosi sono una enciclopedia di generi letterari, dove incontriamo il poema epico, il poema didascalico, la bucolica, l'elegia e così avanti. Il mondo che in questo modo ci viene presentato è un mondo in cui domina il principio di non-esclusione, in cui sono contemplati tutti gli aspetti dell'esperienza, affrontati con uguale serietà letteraria. E sappiamo quanto sia seria per Ovidio la letteratura. E se ricordiamo che il nostro poeta, che Ovidio, ha terminato la sua vita in esilio sul Mar Nero, abbiamo una conferma del significato forte di questa operazione che apparentemente sembrerebbe solo un'artistica. In questo caso, è stato un'artistica. In questo caso, è stato un'artistica. In questo caso, è stato un'artistica. Grazie.